150 partite nella nostra casa, vanno assolutamente festeggiate tutti assieme, noi, voi e loro, uniti per qualcosa di storico e meraviglioso, l'ottavo scudetto consecutivo. Loro affertiti, fino alla fine del primo tempo, forza ragazzi, Juve in gol con Bonucci. Alessandro, la tiene bassa per Bernardeschi che vuole l'accelerata, dall'altra parte si fa vedere Ronaldo, il cross per Cristiano, e vuole il tiro al volo! Perfetto, ha la palla ancora in campo dall'altra parte, Bernardeschi, attenzione, Bernardeschi entra in una legore, col sinistro per Ronaldo, sottoporta, vuole una spinta al giocatore della Juve. Ancora lui, buono il dribbling, attenzione, pericolo, area di rigore, posizione regolare per Chiesa che la mette in mezzo, Scesni, porta vuota! E gol della Fiorentina con Milenkovic. 5 minuti e 4 secondi di gioco, si fa anche male Wojcik. È andato al doppio scambio, poi ha dribblato secco, ha servito Chiesa all'interno dell'area di rigore, palla buona, la parata in deviazione di Scesni, che lascia però la porta sguarnita e la tiro secco da parte del giocatore serbo al suo terzo gol in questo campionato. Colpo di testa all'appoggiare di Simeone, attenzione al 2 contro 2 dall'altra parte, attenzione, centralmente Chiesa, poi si fa vedere dall'altra parte Simeone, la conclusione da parte di Miraglias con il destro. Palla alta, non c'è deviazione, altro pericolo Juve. Passa la mediana, Joao, poi il servizio è buono per Bernardeschi. Attacca l'area, Bernardeschi sul limite, va alla conclusione! Deviata, fil di palo sull'esterno della rete, corre per noi. Dai ragazzi, adesso salire, forza! Attenzione, altro 3 contro 3. Attacco della Fiorentina, sfrederà il limite, Chiesa, palla per Simeone! Posizione regolare, 2-0, no! Si alza la bandierina del signor Locicero, fuori gioco. Aspettato un attimo per essere sicuro, no no, qui è nettamente fuori gioco Simeone. Simeone, appoggia Benassi, posizione regolare di Chiesa, esce Scesni, si allunga leggermente. Il pallone Chiesa, attenzione, alla corsa di Miraglias, c'è Chiesa già verso l'area di rigore. Miraglias entra dentro, il cross all'esterno per Chiesa, destro palo! Ancora però Miraglias, non è finita, conclusione, deviazione di Alexandro, ma c'era posizione regolare. Batte con il numero 5 Pjanic, sul primo pallone, gol, 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 gol! La Juventus con Alexandro, al primo gol stagionale di testa, spinge alle spalle di Lafonte. 1-1 l'abbiamo ripresa. Bel movimento di Alexandro che anticipa nettamente Anczko e va a prendersi il primo palo con il pallone che finisce in rete. La nostra linea difensiva, attenzione al limite, Chiesa, Chiesa può tirare sinistro! Traversa clamorosa, palla che esce, poi ancora il colpo di testa di Simeone, alto. Va a battere il pallone Simeone, partiti fino alla fine della partita, forza, Juventus in gol, dai ragazzi! Attenzione, questo può essere un buon attacco, lo scarico di Cansello, Ronaldo, Ronaldo accelera, entra l'area di rigore, Ronaldo lo mette in rete, gol! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Bernardeschi al minuto numero 52, azione fincante, allargata, di prima la velocità di Ronaldo che entra dentro l'area di rigore, alza la testa e mette in mezzo forse autogol della Fiorentina. Attenzione, l'ultimo tocco è della Fiorentina, lì c'era Bernardeschi ma è nettissima la deviazione di Pezzella e quindi questo dovrebbe essere assegnato come autogol della Fiorentina per il 2-1 della Juve al minuto numero 52. Riesce a tenere il possessore del pallone D'Abo, poi glielo sposta Alexandro, ancora D'Abo che esiste, lo riconquista, attenzione pericolo in area, Simeone, crossa, esce Scendi, lo anticipa Chiesa con la porta vuota e poi spazza via tutto Cansello. Attenzione, palla persa, Ronaldo, l'anteportiere destro, deviazione, Bernardeschi, Bernardeschi, ancora lì, Quadrado, siamo sempre dentro, Quadrado sulla sposta sul destro, tiro, deviato, il pallone termina in calcio d'angolo. Al minuto 62.46. Prova a recuperarla dall'altra parte la Juve, si riesce, no? Sì, la tiene in capo senza farlo e allora attenzione la palla con sinistro, ribattuta ancora piena in sinistro, La Font! Grandissimo intervento di La Font. La parola allo stadio. Mentre la Fiorentina rischia il gol del pareggio con una percussione centrale grande, divaricata con il piede di Volce. Attenzione, Milson, limite dell'area di rigore per Muglier, destro! Altra deviazione dei nostri, altro corner per loro. Mentre arriva uno e arriva due e arriva anche tre. Il triplice fischio del signor Pasqua sullo scudetto, solito Quadrado che festeggia Massimiliano Allegri. Allora tenete il conto e il ritmo tutti insieme. Tifosi e tifosi della Juventus per l'ottava volta consecutiva di fila. Siete campioni d'Italia.